la triplice fiamma di dio da san germen canalizzato da sharon stewart traduzione e voce aura quinta dimensione letture sono san germen e desidero ricordare questo promemoria a voi popolo della terra siete in una parte del processo adesso il meraviglioso processo di risveglio delle anime e delle menti delle persone del pianeta terra eppure non capite il significato di questo processo alcuni lo capiscono e altri no e alcuni si perdono al suo interno permettetevi per favore di darvi una guida in questo momento della storia della terra vengono create linee temporali che consentiranno di nuovo l'ascensione dell'anima attraverso la scuola terrestre per molti anni queste linee temporali non sono state disponibili a molti a causa della manipolazione delle vostre menti solo quelli che vedevano oltre la manipolazione erano in grado di sfuggire alla trappola che era stata attesa per voi ora questo sta cambiando ancora una volta potete iniziare un processo di ascensione organica piuttosto che rimanere ostacolati nel fango della negatività messo davanti a voi da voi stessi e dai vostri controllori extraterrestri sì extraterrestri perché nessuno di loro ha origine dalla terra siano essi di spirito o di materia non importa questi esseri hanno controllato il vostro mondo e le vostre menti per ridurre ad un livello minimo la fiamma che è innata nei vostri cuori quella fiamma è la fiamma di dio che è posta dentro ognuno di voi quella fiamma è triplice ed è fondamentale per il successo del vostro processo di ascensione la fiamma è composta da potere dal potere di dio e dal mondo dal modo in cui lo usate o lo abusate impropriamente amore l'amore di dio per voi e voi per dio le sue creazioni saggezza la saggezza di usare l'amore il potere dentro di voi per il bene più grande di tutti non vedete come questo viene già valutato in voi non lo vedete in effetti i vostri leader mondiali vi stanno permettendo di svegliarvi stanno liberando il loro dominio e il loro controllo e molti di voi si sono persi tutto quello che dovete fare è guardarvi all'interno per vedere la fiamma dentro di voi se non riuscite a percepire la fiamma allora percepite il vostro livello di potere il vostro livello di amore e il vostro livello di saggezza ammettete le vostre mancanze con umiltà non c'è vergogna per essere per non essere il meglio che sentite di poter essere come potete essere il migliore che potreste essere in un sistema che è stato costruito per distruggervi per favore perdonate voi stessi la vostra vergogna e la vostra colpa e per favore proseguite senza paura per lavorare con i poteri divini per potenziarvi di nuovo saggezza state valutando le informazioni fornite e facendo scelte sagge o deduzioni con queste informazioni o vi state lasciando guidare da nuovi dei che cercano di potenziare se stessi a vostre spese entrambi esistono nella vostra comunità entrambi esistono in questo scenario alternativo o davvero credete a quello che vi dicono le notizie su quello che sta succedendo nel vostro paese o trovate fonti alternative che vi raccontino un'altra storia potreste ascoltare entrambe queste narrazioni e decidere voi stessi a cosa volete credere state usando ciò che vedete davanti a voi per aumentare la vostra coscienza o per assumere una nuova serie di convinzioni limitanti amore state usando tutto ciò che vi viene messo davanti e tutti quelli che vengono prima di voi per imparare ad amarli o per continuare a temerli perché odiate gli altri e perché amate gli altri è semplicemente perché sono d'accordo o non sono d'accordo con voi non vi rendete conto che ora il momento in cui le vostre convinzioni cambieranno perché questa è la ragione per cui tutto viene condotto così com'è dovete cambiare come usate chi incontrate per imparare ad amare di più gli altri vi perdonate per aver commesso errori o per aver avuto i vostri brutti giorni e riprovate o vi condannate indefinitamente per non essere stati amorevoli una determinata volta state perdonando o state semplicemente condannando tutto intorno a voi e perdonate anche voi stessi non riconoscete che il modo in cui interagite con uno sconosciuto che indossa una maschera a supermercato è pertinente alla vostra crescita spirituale quanto il modo in cui interagite con qualsiasi altra persona siete tutti parte di dio rispettate gli altri e loro scelte o le screditate correggete gli altri o permettete loro di dire le loro opinioni avete intenzione di distruggere un'altra persona o amate veramente vostro fratello solo quelli che pensano allo stesso modo sono vostri amici oppure potete amare anche qualcun altro vi aspettate che tutti gli altri rendano questo mondo un posto migliore o fate la vostra parte potere non vedete che in atto un processo per conferire potere alle persone perché c'è i fondi di san germain vengono rilasciati alle persone affinché fermino la loro mancanza di prospettive e si rendano conto che c'è più che a sufficienza per nutrirli a tempo indeterminato le aziende che limitano la spedizione di alimenti verranno sostituite con società che spediscono tutto per nutrire il maggior numero di persone possibili verranno stabiliti nuovi standard per queste aziende e promuovere la mancanza diventerà illegale sì i prezzi elevati diventeranno un ricordo del passato il mondo diventerà accessibile a tutti non ci sarà alcun trattamento preferenziale basato sull'avidità il processo seguirà un approccio in tre fasi ogni fase corrisponderà ad un chakra nella speranza di riequilibrarlo quando vi verranno forniti abbastanza denaro e cibo la vostra paura di non averne abbastanza svanirà quando vedrete che i bambini sono stati salvati e il loro abuso è cessato il chakra sacrale potrà essere nuovamente bilanciato quando le questioni di genere saranno risolte con l'ascesa del divino femminile e il giusto potenziamento del divino maschile dentro di voi sarà possibile riequilibrare il secondo chakra quando avrete abbastanza cibo denaro e le principali questioni di divisione nella vostra società saranno guarite inizierete ad entrare maggiormente nel vostro potere e il chakra del plesso solare cercherà il riequilibrio tutto questo porterà all'apertura del cuore alcuni hanno già subito questo processo e il loro cuore è aperto non tutti sulla terra sono così e c'è ancora molto da imparare tuttavia una volta che questo programma avrà finito di funzionare davanti a voi capirete che vivrete in una società che supporterà la vostra ascensione piuttosto che scoraggiarla vi sentirete più come un umano non l'umanoide che siete ora il vostro dna cambierà e si impegnerà nuovamente per portarvi ad un potere maggiore è voluto che sia così e così sia rimango sempre a vostra disposizione san germen grazie a tutti